marzo 2022 scegli anna apparizione e messaggio di gesù e la madonna l'ora di satana e vicina gesù cristo nostro signore e salvatore dice miei amati preparatevi ad entrare nel vostro rifugio sicuro preparate le vostre provviste confidando in me per i vostri bisogni a causa della guerra sta arrivando la scarsità di cibo non abbiate paura miei fedeli sono il vostro fornitore non nutro gli uccelli e adorno i fiori in bellezza abbiate fiducia in me e non siate ansiosi perché i poteri delle tenebre dominano le cose di questo mondo ma voi non siete di questo mondo satana non ha autorità sulle anime consacrate che sono devote al mio sacro cuore miei amati rimanete nascosti nel mio sacro cuore dove le tenebre non possono penetrare così dice il signore figli miei siete un'estensione della mia preghiera continuate a pregare il mio rosario di luce che acceca i vostri nemici ed espone i mali di questo mondo l'ora di satana e vicina ma i cuori santi di mio figlio dio prevarranno mentre le tenebre si allontanano rivelando l'alba di una nuova era dove mio figlio regnerà pregate figli miei pregate perché la divina misericordia di mio figlio risplenda luminosa su tutta l'umanità attraverso la recita della sua coroncina unite le vostre preghiere stando dietro il vostro scudo di fede che crea una linea di difesa che il male non può passare ricordate sempre le mie promesse e lasciate che le vostre preghiere siano incessanti così dice la vostra amorosa madre